Ritorniamo al nostro angolo, così lo chiamerò da oggi in poi, tra scienza e fede. Quindi parleremo di fede. Stasera leggeremo un passo trattato dalla Bibbia, praticamente da Vangelo secondo Giovanni, 14 da 1 a 14, che secondo me molto, ci sarebbe molto da dire, molto da parlare in merito a quanto sta scritto. Vediamo quello che ci dice, un attimo che appoggio, spero che mi sentite. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso, signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto a me? Ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me. Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono il Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità vi dico, anche chi crede in me compierà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. In questa, diciamo, bellissima lettura, notiamo come prima cosa il fatto che, praticamente, Gesù dice che nella casa del Padre mio vi sono molti posti, quasi per dire, non vi preoccupate, c'è posto per tutti. Cioè la salvezza è per tutti, non è solo per pochi. Gesù e il Padre non vorrebbero punire, non vorrebbero che le persone siano allontanate, siano nel tormento della lontananza da Dio. Questa è la, diciamo, la perdizione. Il tormento della lontananza della nostra anima da Dio. Perché la nostra anima si deve riunire a Dio. Nel momento in cui l'anima non si riunisce ed è lontana, soffre. Questo, diciamo, è... Riguardo della casa del Padre mio vi sono molto dimora e la scienza ha voluto tradurre con la possibilità del multiverso. Cioè, praticamente, vuol dire che, visto che sono nati e morti milioni e milioni, e miliardi e miliardi di persone, da quando è sorso la Terra, ma anche l'Universo. Perché non si sa se una sorta di... come posso dire, di messaggio è stato dato anche ad altre forme di vita simili alla nostra. Io credo di sì. Cioè, non è nato solo il figlio di Dio qui sulla Terra, ma sono nati più profeti, figli di Dio, Cristo. Cristo, cioè il Cristo è l'undo del Signore. Ma si può nascere anche sulla galassia del sombrero, se c'è forme di vita o sistemi isolati simili al nostro, con forme di vita più o meno evolute. Quindi, questa è la prima cosa. In un universo così sconfinato, in un multiverso, con infinite dimensioni, nella casa del Padre mio vi sono infinite dimore, avrei detto, non molte dimore, ma comunque si può capire anche in questo senso qua. Quando poi Gesù sottolinea molto che il Padre che è in me compie le sue opere, io sono nel Padre e il Padre in me. Io sono la via, la verità e la vita. Cioè, vuol dire Gesù che, infatti nel credo, viene detto, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Cioè, si parla di un'esistenza preumana del Cristo, di Gesù, che è stato generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. È come se fosse una diretta emanazione del Padre, cioè di Dio. Questo intende quando dice che il Padre è in me e io sono nel Padre. E qualunque cosa verrà chiesto al Padre verrà esaudito, qualunque cosa verrà chiesto anche a Gesù verrà concesso. Logicamente, questo con la fede. Ricordatevi del centurione, quando chiese a Gesù, diciamo, di guarire il suo servo. Più un figlio che un servo, lui disse a Gesù, per me è. Gesù pensava che dovesse andare a casa sua. Quando il centurione disse, no, no, non sono degno di accoglierti. Io sono, non mi sento degno. Però so che sono sicuro di quello che tu farai. Perché qualunque cosa chiedi a tuo padre, tua padre ti starà a sentire e te la congederà. Come io, sono un centurione, ho cento soldati sotto di me e dico all'uno fai questa e lui la fa. All'altro fai quest'altra cosa e lui la farà. Lo so, sono sicuro. La stessa cosa, io sono sicuro che se tu chiederai una cosa al tuo padre, il tuo padre te la darà. Ecco, questa è una prova di fede, data da un pagano. Il centurione non era un ebreo. Il centurione era il politeista. All'epoca i romani avevano una religione, diciamo, politeista. Eppure la fede, ecco quello che dico sempre io, fiducia, volontà e amore. In questa pagina, in questa paginetta che vi ho letto del Vangelo, c'è tutto. Quando poi Gesù dice io sono la via, la verità, la vita. E lo dice anche di fronte a Ponce Pilato, quando Ponce Pilato dirà qui est veritas, cioè cos'è la verità. perché Gesù dice chi conosce la verità ha ascoltato la mia voce. Cioè per dire, chi ha ascoltato la sua parola, la sua parola è verità. Io sono la via, la verità è la vita. La via perché se non si è come lui o non si diviene come il Cristo, non si può liberarsi dalla schiavitù del peccato, in questo caso dalla schiavitù della materia. Noi siamo potenzialmente tutti esseri spirituali. Allora, per liberarci dalla materia, da questo corpo materiale, dobbiamo elevarci. Per elevarci dobbiamo essere come Cristo. cercare di essere come lui, nel senso le caratteristiche che stanno nel discorso della montagna. I miti, gli umili, le persone che, gli operatori di pace, coloro che hanno fame e simile di giustizia, i sofferenti, gli emarginati, diciamo, persone che, pur essendo così, sono più vicini a Dio di chi invece ha tutto. Perché chi ha tutto in questa vita avrà ben poco nell'altra. Non accumulate tesori sulla terra, nella materia, ma accumulate tesori in cielo. Il tesoro in cielo sarebbe la ricchezza dello spirito. perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Quindi, praticamente, quando si legge che, per esempio, Gesù dice di perdonare, noi dovremmo fare così, dovremmo perdonare, ma non perdonare chi vogliamo bene, perdonare anche chi ci vuole del male, perdonare tutti. Infatti, Barabba, che era uno zelota, un patriota, perdonare i romani, perdonati tutti. allora, amico dei romani, non è che Gesù era amico dei romani, Gesù era venuto per liberarci dalla schiavitù, non dei romani, dalla schiavitù del peccato. e chi voleva essere come lui, doveva essere così come era lui. Se vuoi essere come me, segui, seguimi, prendi la tua croce e fai come faccio io, diciamo. La croce è intesa quello che ognuno di noi ha, chi più, chi meno. la malattia, una sofferenza, qualunque problema, la perdita del posto di lavoro, la difficoltà economica, ognuno ha una propria croce, l'importante è saperla, diciamo, sostenere. Tanto se veramente c'è fiducia, c'è amore, c'è, diciamo, volontà, lui ti sostiene. Il Cristo, il Padre, sono sempre vicino a noi, non sono lontani da noi, siamo noi che non li sentiamo, loro ci ascoltano, loro ci chiamano, loro ci attirano. Siamo noi che non sempre siamo disposti a essere attirati, ma siamo sviati dal lato oscuro. Il lato oscuro sarebbe la via, la larga via, la via larga del peccato, della perdizione, del potere, del qui ed ora, del vivere al momento e vivere al meglio possibile, senza pensare a nutrire lo spirito. l'ossetta via invece è fatta di sacrificio, sì, è fatta anche di sacrificio, amare il proprio nemico. non c'è cosa più bella che dare la vita per un proprio amico, non fratello, per un amico, dare la vita. Da questo riconosceranno che siete i miei discipoli, che vi amate gli un gli altri come io vi ho amato. Chi ama veramente oggi? 2024, pandemia, fame nel mondo, bambini che muoiono, traffico di organi, c'è una corruzione orribile. Io l'ho definito il medioevo tecnologico, che abbiamo la tecnologia e poi siamo un'umanità così corrotta e corruttibile. E' ben poca cosa la tecnologia. Era più importante coltivare la spiritualità, oltre che la tecnologia. Potevamo, avevamo tutto, la terra c'ha tutto. Infatti, quando ero ragazzo, 40 anni fa, leggevo in un futuro radioso, dove il deserto sarebbe fiorito, dove la fame non ci sarebbe stata più, la vita sarebbe stata, diciamo, tutti quanti sarebbero vissuti senza troppe malattie, si sarebbero sconfitte tante malattie, perché l'uomo forse era destinato a una vita più spirituale. Al momento in cui ha imboccato la vita del materialismo, del potere, si è rovinato con le sue stesse mani. Ha violentato la natura, ha sconvolto il clima, ha contribuito a questi campi climatici, è questa, ha una terra che ormai sta sul punto di soccombere. Se non facciamo qualcosa, facciamo una brutta fine, perché la natura siamo a noi, noi e la natura, siamo la stessa cosa, quindi se non capiamo questo, le cose non andranno mai bene. L'ho detto tante altre volte, in altri video, lo disse duemila anni fa un certo Giovanni, che poi era il cugino di Gesù, prima di cambiare i regni, vanno cambiati gli uomini, ma se gli uomini non cambiano questi regni, come fanno a cambiare? regni, governi, ma se dopo una pandemia come il Covid ci sta una guerra, una guerra, quelle che sappiamo noi, Ucraina e Russia, il conflitto, l'eterno conflitto in Palestina, il conflitto arabo-palestinese, di che parliamo? Neanche la pandemia ci ha uniti, anzi, dopo la pandemia sembra che l'uomo è diventato ancora più cattivo di prima, eppure c'è tanto amore, c'è tanto bene, c'è anche quello, c'è anche quello. Che vi posso dire? Cerchiamo di essere tutti più buoni, di essere più concentrati verso vivere nel mondo con la mente rivolta a Dio, cioè pensando che la vita non è questa. Se io penso che la vita è questa, dico, ma che fregatura, a 50 anni ho preso un Parkinson, una forma che mi provoca la rigidità e piano piano mi blocca, beh, che vita è questa? Almeno me lo so visto, no, 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 io posso essere di esempio per chi sta peggio di me o meglio anche di me. Un esempio di vita che è di volontà, di fiducia e di amore. L'amore è quello che muove il mondo, l'amore è quello che ha fatto nascere l'universo, l'universo è nato per un atto d'amore, il pensiero che diviene forma, l'amore che ha preso forma, Dio è l'amore. Quindi, se l'amore ha pensato e il pensiero è divenuto forma, è preso forma in questo multiverso. Perché noi dovremmo essere bruti, fatti fosse non per vivere come bruti, ma per acquisire virtù e conoscenza, lo disse anche l'altro. Noi che virtù e conoscenza acquisiamo? la virtù e la conoscenza del potere, dello stare bene, dell'avere soldi, del fare a gara di chi sta meglio e gli altri? I derelitti, i poveri, i malati, gli abbandonati, i carcerati, i barboni, anche loro sono i nostri fratelli, o no? Ognuno guarda a sé. Questo è il problema dell'uomo, l'egoismo. C'è troppo egoismo, c'è anche tanto amore, per carità, ma si vede più il lato oscuro, si vede più questo lato che è più seducente, è più facile, no? Di dire che è bello, sono ricco, tengo tutto, non mi serve niente. davvero, ti viene una tegola come a me che è caduta cinque anni fa, questa bella tegola in testa, che io pure fossi stato ricco, che me ne facevo dei soldi, se ho un male che non può essere curato, ma che è destinato a degenerare, solo Dio e la fede mi possono aiutare, e come aiutano me possono aiutare pure voi, basta che fate un piccolo sforzo, vivete nel mondo con la mente rivolta a Dio, pensate che la vita non è questa, ma vi aspetta qualcosa di più, però bisogna meritarlo, per meritarlo dobbiamo operare, io attraverso la rete, voi come potete, come volete, spero che questo messaggio possa trovare persone in grado di comprenderlo e di metterlo in pratica, perché più lo si farà, meglio sarà per noi e per le generazioni future. E detto questo, penso che abbiamo detto anche tanto, pure stasera. Vi saluto, un appuntamento al prossimo angolo di questa scienza e fede, alla ricerca dell'unità, e che la luce del Signore scenda nei vostri cuori. Grazie. 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 Grazie.